Se all'improvviso sentissimo che stiamo per morire e ci domandassimo quale traccia lasceremo del nostro passaggio per questo canile, la risposta sarebbe nessuna. Ma non abbiamo fatto niente se non parlare per conto degli altri. Che cosa significherebbe altrimenti aver tradotto milioni di parole di cui non ne ricordiamo neppure una? Perché nessuna meritava di essere ricordata?